Benvenuti alla quinta lezione del corso piante in acquario in questa lezione parliamo di alghe fondamentale parlare di alghe perché sono competitori principali alle nostre piante in acquario ovviamente sono sempre detestate dalla maggior parte degli acquariofili e spesso molte persone confondono addirittura le alghe con le piante vediamo appunto innanzitutto che cosa sono le alghe sono organismi eucarioti fotosintetici quindi posseggono un nucleo e anche loro fanno la fotosintesi vedremo che hanno diversi pigmenti fotosintetici e possono essere o unicellulari o pluricellulari le alghe è appunto è un po' difficile classificarle nell'albero della vita perché come vediamo sono sì, composte da una membrana cellulare ma come vediamo appartengono a diversi rami qui possiamo vedere le diatomee le alghe brune, gli omiceti ma qui vediamo ad esempio in un altro ramo le alghe rosse le alghe quelle verdi che partono sempre dal dal grande ramo delle piante in realtà sarebbero qui appunto a queste estremità quindi sono dei protisti e appartengono appunto ad un gruppo polifiletico ovvero sono un gruppo di organismi che non appartengono agli stessi rami infatti come abbiamo detto sono più rami quindi polifiletico più rami e quindi queste sono le alghe a livello ovviamente di classificazione vediamo un po' più nel dettaglio beh, prima di parlare di classificazione volevo mostrarvi appunto la brarudosfera che è una delle più piccole alghe che abbiamo al mondo appunto misura 10 nanometri mentre la più grande la macrocystis arriva fino a 80 metri ebbene le alghe ovviamente sono divise per tipologie appartengono a diversi fila tipologie che solitamente sono distinte da colori pigmenti fotosintetici o da altre caratteristiche che le rendono veramente uniche come ad esempio le diatomee che sono composte principalmente da silicio quindi abbiamo alghe brune le faufite alghe rosse rodofite alghe verdi clorofite eccetera vediamo un piccolo appunto sulle alghe verdi che sono tra le più comuni in acquario hanno come pigmento fotosintetico la clorofila A e la clorofila B ma riescono a usare anche i carotenoidi questo significa che rispetto ad altre piante riescono ad essere molto performanti in termini di spettri di luce che possono utilizzare per la fotosintesi e hanno queste strutture che sono i pirenoidi sono degli organelli delle molecole che possono utilizzare per fissare la CO2 quindi riescono a utilizzare anche pochissimo CO2 che c'è disponibile e le alghe verdi le possiamo trovare come organismi unicellulari coloniali o filamentose si riproducono in tre modi la prima è la frammentazione quindi questa riproduzione vegetale in cui semplicemente da un organismo è un po' come fare una taglia delle piante si rompe e ne parte un'altra l'altra è una riproduzione assessuata la pianta madre produce anzi, l'alga madre produce delle copie di se stessa che disperde l'ambiente tramite delle zospore oppure c'è la classica riproduzione assessuata con la fusione di gameti quindi vengono prodotti gameti maschili e gameti femminili che si incontrano e da lì parte una nuova generazione ho voluto mettere questa piccola slide per ricordarvi che alcune alghe verdi posseggono dei flagelli e quindi riescono a muoversi cercando quante più luce possibile si spostano proprio verso la luce hanno delle molecole, dei fotorecettori che riescono quindi a far capire all'alga dove è la luce in modo tale che possa spostarsi verso di essa e una di queste alghe ovviamente interessantissima da approfondire è la volbox una delle alghe che abbiamo abbastanza presente anche in acquario che cosa è interessante di quest'alga è interessante vedere come ha due cicli un ciclo vegetativo dove riesce appunto la pianta madre produce delle piccole coloni di se stessa che poi può rilasciare oppure c'è una riproduzione quindi classica assessuata con le alghe maschi e le alghe femmine che si incontrano in cui l'alga maschio dà un pezzettino di se stessa all'alga femmina che fa rilasciare tutte le sue micro i suoi gameti che si incontrano, si fondono creano delle zigospore che poi germinando danno origine a nuove alghe niente era una curiosità che volevo mettere andiamo un po' più però nel dettaglio di quello che interessa a noi in acquario le alghe più comuni presenti in acquario che adesso andremo a vedere in dettaglio sono le BBA, le diatomee le alghe verdi puntiformi le alghe verdi invece filamentose le cladofore l'acqua verde e le stegornalgi le alghe sono sempre presenti in acquario in acqua spesso sono presenti addirittura in aerosol quindi disperse proprio come spore nell'aria che viaggiano se c'è umidità fondamentalmente ci sono alghe il problema è quando esplodono in modo incontrollato e prevalgono le nostre piante o comunque l'estetica del nostro acquario solitamente questa cosa avviene quando c'è uno scompenso di nutrienti quindi ci sono troppi nutrienti o non necessari per le piante quindi possono esserci tutti nutrienti ma ne manca uno e quindi la pianta non riesce a processare tutte le sue funzioni biologiche per lo sviluppo oppure ci sono degli spetti luminosi errati per le piante che stiamo coltivando le alghe appunto essendo invece meno esigenti riescono a arrangiarsi con quello che trovano detta proprio brutta quindi con diversi spettri luminosi o anche con nutrienti non proprio di qualità e loro riescono ad avere la meglio partiamo da un problema tipico di acquari solitamente esposti a luce solare diretta o con lampade errate e quindi questo ad esempio capita anche in molti laghetti l'acqua verde appunto cosa da diverse specie di alghe come vediamo chlorella, glenea, volvox eccetera da che cosa è dovuto? l'aumento delle temperature quindi le temperature solitamente superiore ai 28 gradi in cui le piante vanno in blocco fisiologico perché le piante l'eccesso di energia anche luminosa ovviamente che ricevono possono espellerlo tramite calore ma fisiologicamente non riescono a espellerlo sopra temperature per la maggior parte le piante acquatiche sono 28 gradi alcune arrivano fino a 32 ma solitamente appunto con queste temperature non riescono a espellerle calore quindi la pianta non riesce più a fotosintetizzare e rimane in blocco vegetativo mentre le alghe riescono ad andare alla grande e appunto solitamente quindi è unito anche a un'eccessiva luce come abbiamo detto appunto c'è troppa luce le piante non riescono a utilizzarla oppure riescono a utilizzarla ma non tutta e le alghe quindi partono che è una goduria le soluzioni solitamente sono molto semplici possiamo ovviamente installare una lampada UV che va a uccidere tutte le alghe ma nel giro è veramente di pochissimo possiamo fare dei cambi abbondanti cercando di quindi abbassare anche la temperatura dell'acquario e ovviamente magari capire se c'è un'eccessivo non eccessivo l'illuminazione l'alternativa se no appunto è coprire tutto l'acquario per 3-4 giorni le alghe solitamente hanno meno riserve energetiche delle piante moriranno prima delle piante e poi quindi possiamo ripartire con l'illuminazione attenzione a fare questa cosa qui perché tutte le alghe morti ovviamente andranno a creare un aumento di composti organici in acquario che sarà bene quindi trattare poi con dei appunto abbondanti cambi d'acqua altro problema molto comune in acquario sono le BBA sono queste alghe acciuffo a pennello nere marrone molto scuro ma solitamente sono proprio nere brunastre causate da questa Rodocorton un genere di alghe che è veramente veramente tosto da rimuovere perché è ben ancorato solitamente su foglie gli apici dei tronchi o rocce talvolta anche su i vetri abbastanza raro solitamente si mettono crescono poi in zone dove c'è anche un buon flusso d'acqua avvengono quando solitamente abbiamo piante molto vecchie e lenti e lenti a crescere con la CO2 non data in modo ottimale e quindi abbiamo questi spike di CO2 quindi questi questi picchi di CO2 dovuti magari all'utilizzo di soluzioni fai da te fatte in modo molto artigianale quindi non saputi gestire bene unita ad una scarsa qualità dell'acqua quindi abbiamo magari cambi poco frequenti le piante che non riescono a performare alla grande e queste BBA iniziano a esplodere a divertirsi allora come possiamo rimuovere le BBA la prima cosa ovviamente è rimuovere a mano tutte quelle che possiamo vedere con la pinzetta vengono via o se no semplicemente a mano le prendiamo dobbiamo proprio come romperle per staccare dal supporto e asportarle l'utilizzo poi principalmente dobbiamo riequilibrare il nostro acquario quindi capire cosa c'è quindi potremmo inserire più piante a crescita rapida fare cambi più frequenti avere una CO2 più performante e nei punti in cui non riusciamo a rimuovere bene le alghe vediamo che ritornano semplicemente con un po' di acqua una siringa con acqua sigenata andiamo a spruzzargliela e moriranno nel giro di poco attenzione a non abusare dell'acosigenata ovviamente perché causerà danni anche alle vostre piante o ai vostri pesci e gamberetti che popolano il vostro acquario e detto a me causati da questo genere algale le bacilla rioffice cosa possiamo dire solitamente avvengono in vasche nuove o con molti silicati sono questa patina brunastra che vediamo su rocce su soprattutto sui vetri la cosa più semplice da fare è una rimozione manuale dalle rocce possiamo rimuoverla con un semplice spazzolino con dai vetri con un po' di lana perlo o una lametta bene via veramente molto semplicemente diversi animali di ingivori riescono a cibarsene ma se vogliamo avere un acquario che non presenti più gli diatomee o utilizziamo acqua di osmosi ricostituita con i sali quindi solitamente non abbiamo eccessi di silicati oppure dobbiamo mettere nel nostro filtro delle resine antisilicati in modo tale da togliere l'accesso di silicati che abbiamo dall'acqua del rubinetto per evitare ovviamente queste esplosioni di iediatomee alghe verdi puntiformi classiche anche quelle vediamo molto spesso in diversi acquari solitamente sono in acquari comunque anzianotti causate da queste alghe le coleocatacee e cosa possiamo dire niente solitamente avviene quando abbiamo squilibri in acquario quindi con una scarsa qualità dell'acqua che qui associati a o errata fertilizzazione quindi elevati fosfati o scarsi cambi dell'acqua e troppo mangime che solitamente porta anche qui ad avere elevati fosfati quindi la prima cosa da fare è rimozione manuale con un bel raschetto eventualmente vi lascio qua nel link sotto dei raschetti che vi consiglio l'utilizzo ovviamente di chioccio del givore può aiutarci perché si mangiano gran parte delle alghe ma ovviamente dobbiamo risolvere il problema quindi comprare un test per i fosfati tenerli monitorati e ovviamente fare dei cambi più elevati le filamentose sono master appunto per le vasche nuove quindi quelle che abbiamo appena allestito solitamente avvengono perché questo genere di alghe dalle spirogire le vocerie eccetera sono diverse che le causano sono le prime a partire una vasca nuova solitamente ha le piante che si devono ancora adattare alla vita acquatica e al nuovo ecosistema in cui le abbiamo messe solitamente abbiamo comunque molta luce e molta CO2 i primi nitrati causati creati ovviamente dagli scarti dei pesci e non abbiamo ovviamente il sistema pronto per assorbire tutto questo eccesso che c'è è normale ma non è un problema perché solitamente queste filamentose poi regrediscono mano a mano che le piante iniziano a a partire insomma a crescere il nostro acquario e possiamo poi rimuoverle o manualmente molto semplice con uno spazzolino le giriamo intorno e come se fossero degli spaghetti ne rimuoviamo il più possibile alcuni animali se le mangiano quindi diversi pesci come il crossonchiello siamensis o le le mano shrimps o anche le le classiche caridine se le mangiano dobbiamo ovviamente ricordarci di controllare che sia tutto in bolla quindi normalmente con non ci siano eccessi di nitrati nitriti in acquario e eventualmente andare a spruzzare un po' di acqua suigenata nelle zone più concitate di queste alghe per rimuoverle sempre prestare molta attenzione all'acqua suigenata quando parliamo di alga cladofora parliamo della cladofora crespata ovviamente parente della classica cladofora alga agrofila la marimo che ci può arrivare in acquario la riconosciamo perché fa questi steli molto lunghi che poi si dirama e fa proprio dei ciuffetti e ripartono questi steli è un'alga veramente veramente difficile a combattere entra in acquario tramite altre piante quindi da acquari in cui c'era l'alga o anche arredi e sassi dove c'era l'alga o tramite appunto le classiche marimo perché può vivere insieme possono vivere insieme dentro la marimo ovviamente e solitamente appunto la cosa che possiamo fare è rimozione manuale le più grosse delle volte in realtà continuerà a ripresentarsi adorerà nascondersi in mezzo a piante soprattutto in mezzo ai muschi saranno veramente pieni pieni solitamente della crespata alcuni prodotti possono funzionare alcuni alghi cidi specifici anche qua attenzione a usarli perché possono causare problemi a tutto il vostro acquario e l'alternativa purtroppo è lo smantellamento della vasca con addirittura consiglio mio è quello di cambiare totalmente anche tutto il materiale filtrante e di non riutilizzare né substrato né rocce o arredi salvo trattamenti chimici molto specifici o bolliture estreme perché produce delle spore che resistono alla seccatura cioè ve la portate sempre sempre dietro questa alga purtroppo stagornalgi sono queste alghe che sembrano fili di cotone dentro l'acquario solitamente hanno un colore brunastro grigio a volte arrivano a essere anche i biancastri non confondeteli con le classiche muffe lo vedete proprio perché sembrano dei fili sono anche abbastanza spesse e se le toccate in mano le riuscite anche proprio a palpare mentre le alghe le muffe solitamente si sciolgono quando ce l'avete in mano cose da questo genere com sopogon solitamente avvengono quando stiamo somministrando troppo ferro le piante non riescono a prenderlo anche perché avvengono quando abbiamo dei protocolli di fertilizzazione che ci siamo inventati sentiamo che il ferro fa bene alle piante quindi abbiamo un fertilizzante generico che contiene già ferro e in più compriamo quello specifico per il ferro e quindi iperdosiamo del ferro solitamente la soluzione per queste alghe è sì sicuramente rimozione manuale ma per essere sicuri al 100% sono prodotti specifici dall'acqua ossigenata a alghi cidi pensati proprio per queste alghe qua ora passiamo invece alla nuova lezione in cui parleremo invece di cianobatteri cosa sono come arrivano in acquario e come combatterle diciamo